Scendere in politica a difesa della salute dei molisani e questo è il proposito del Comitato Pro Santissimo Rosario all'indomani della chiusura del servizio di assistenza domiciliare all'ospedale di Venafro. Anche l'ultima dipendente non è stata rimpiazzata dalla direzione del nosocomio, caduti finora nel vuoto gli appelli sul potenziamento della cooperativa che forniva l'assistenza ai cittadini. Invece lanciati a nome del Comitato dal portavoce Mario Giannini. Vogliamo sapere perché succedono queste cose, perché non si potenzia il servizio di assistenza domiciliare su questo territorio. Ma io già qualche mese fa vi ho detto che ho la brutta impressione che vogliono chiudere Venafro, ma ce lo dicessero che vogliono chiudere Venafro. Almeno sappiamo che cosa si deve fare in questa struttura. Casa della Salute, si dice Casa della Salute, ma non ci sono i servizi efficienti da poter dare ai cittadini, specialmente in questo periodo di pandemia dove è previsto il potenziamento dell'assistenza territoriale. Chi ha bisogno di essere curato a casa, perché in questo periodo tra l'altro è ancora maggior ragione, è meglio essere curato a casa perché gli ospedali sono intasati, perché ci sono centri Covid, terapie intensive intasate. Ebbene, c'è un'assistenza, c'è una cooperativa che fornisce l'assistenza, questi cittadini che possono stare a casa fornisce l'assistenza domiciliare, per vari motivi, insomma, perché c'è bisogno in questo periodo anche di essere curati di malattie normali, non solo di Covid. Ed è questo quello che forniva il servizio di assistenza domiciliare di questa struttura. Noi abbiamo già chiesto al direttore generale di interessarsi e se non lo farà il direttore generale, noi chiederemo un incontro urgente per questo motivo. Devo dare anche un'altra notizia, perché se no qua mi pare che, nonostante gli appelli ai nostri rappresentanti, amministratori e politici, noi stiamo valutando anche come Comitato l'opportunità di scendere in campo alle prossime comunali e regionali per poter difendere da noi stessi questa assistenza, questo diritto alla salute di questo territorio.